Seguirà poi l'equipaggio francese Bugli Emote, ma in questo momento concentriamoci per il campionato italiano Under-23. Cento e medaglia d'oro in questo momento in campo, qua di Ivrea, bilanciamento per l'equipaggio bolognese 152-02, primo posto provvisorio, vediamo 6 punti di penalità per loro, intertempo, fatto registrare dall'equipaggio invece genovese nettamente migliore, 8 secondi, vediamo una palina che balla, cento predici in tempo di Quercitavo, dovrebbero farsela, dovrebbero sicuramente farsela, vediamo gli atleti della Lega Navale, sessioni di quinto, Genova.